Cos'è una cisti-ossea semplice? Una cisti-ossea unicamerale è conosciuta colloquialmente come una semplice cisti-ossea. Semplicemente, questa è una lesione piena di liquido nell'osso. In genere è più comune nelle ossa lunghe dei bambini, ma può verificarsi anche in altri tipi di ossa e negli adulti. A seconda della gravità della cisti, può causare sintomi o complicanze. Il trattamento spesso include la rimozione della cisti. Una semplice cisti-ossea si verifica quando il fluido riempi una cavità in un osso. Il fluido sieroso è il tipo più comune di fluido che si trova nella cavità, ma in alcuni casi si può anche trovare del sangue. Questa cisti è generalmente circondata da tessuto fibroso compresso. Le ossa lunghe sono il tipo di ossa in cui si sviluppano le cisti-ossea più semplici. È più tipico per le cisti-ossea semplici da trovare nelle ossa del braccio superiore, noto come l'omero, e le ossa nelle cosce, noti come i femori. Inoltre, questo tipo di cisti tende a formarsi nella metafisi. Questa è la sezione dell'osso che si trova dove il lungo tronco dell'osso si collega alla fine. I bambini di età compresa tra 5 e 15 sono più comunemente afflitti da questi tipi di cisti. I bambini più grandi e gli adulti, tuttavia, possono anche essere diagnosticati con una cisti-ossea semplice. Questi individui, tuttavia, hanno maggiori probabilità di sviluppare la cisti nelle ossa piatte, incluse le osse e le costole pelviche. È anche possibile che una semplice cisti-ossea si formi nella mascella o nelle ossa del tallone negli individui più anziani. La causa di una semplice cisti-ossea di solito non è nota. Alcuni medici, tuttavia, hanno alcune teorie. Alcuni credono che queste cisti possano essere causate da un piatto di crescita o da un problema di circolazione. Ci sono anche alcune prove che il trauma ripetuto, come numerose ossa rotte, può anche mettere una persona a rischio di sviluppare una cisti-ossea semplice. In genere, una semplice cisti-ossea è considerata benigna. Ciò significa che di solito non influisce su nessun'altra posizione nel corpo oltre all'osso che lo contiene. In alcuni casi, tuttavia, potrebbe aumentare. Ciò può causare la formazione di pressione all'interno dell'osso e portare a una frattura, ma ciò non accade in ogni caso. Di solito non ci sono sintomi con una cisti-ossea minore. Se una cisti inizia a fratturare l'osso, tuttavia, un individuo avverte un dolore. Il gonfiore può anche essere presente nell'area. A meno che non peggiori e causi problemi, una semplice cisti-ossea tipicamente non verrà rilevata. Questi tipi di cisti-ossee vengono in genere scoperti utilizzando test di imaging, come radiografie o scansioni topografiche calcolate. Iniezioni di steroidi sono talvolta utilizzati come trattamento per questa condizione, dal momento che possono far scomparire la cisti. Altre volte, viene praticato un piccolo foro nell'osso e la cisti viene rimossa. Dopo questa procedura, il tessuto osseo del donatore viene inserito per chiudere il foro.